Impossibile risalire al movente e agli autori del duplice omicidio. Con questa motivazione i pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Roma hanno chiesto al giudice per l'indagine preliminari l'archiviazione dell'inchiesta sull'omicidio dell'inviata del Tg3 Ilaria Alpi e dell'operatore triestino Miran Hovatin accaduto 23 anni fa a Mogadisci in Somalia precisamente il 20 marzo 1994. A firmare la richiesta di archiviazione, previo visto del procuratore Giuseppe Pignatone, è stato il PM Elisabetta Cenicola, magistrato che assunse la titolarità degli accertamenti dopo che Gipe Emanuele Cersosimo nel dicembre 2007 respinse un'analoga richiesta di archiviazione sul duplice omicidio disponendo ulteriori accertamenti. Ma come si legge nel documento redato dei PM è stato impossibile attivare indagini in Somalia il che impedisce accertare movente e autori degli omicidi. Anche le ipotesi formulate da più parti nel corso di tutti questi anni relative a presunti depistaggi non hanno trovato alcun riscontro, afferma l'IPM. E la parte di inchiesta dedicata alle ipotesi di depistaggio aveva preso le mosse dalle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Perugia che il 19 ottobre 2016, a conclusione del processo di revisione, aveva assolto il somalo Hashi Omar Hassan, chiamato in causa da un testimone, rivelatosi poi falso, Ahmed Ali Raje, detto Gelle, anche gli somalo. Non ci sono commenti da parte della famiglia di Miran Hovatin mentre la reazione della famiglia di Ilaria Alpi riferisce il loro avvocato e di vivo stupore per la decisione della procura. Non è vero che non ci sono i moventi e le prove dei depistaggi, afferma l'avvocato. Ce ne sono in abbondanza ma non si vogliono leggere. E non è vero che non ci sono gli elementi per richiedere il rinvio a giudizio quando tutti i fatti emersi fino ad oggi indicano una responsabilità delle autorità italiane per come sono state condotte le indagini. Questo processo, conclude l'avvocato, fin dall'inizio è stato destinato ad abortire.